BMW Serie 3, la 3.20, campione d'Italia con Aspetti e ora bussa brutalmente tutto di traverso un magistrale Piedone Giovanardi che reagisce alla bussata non curante mettendo di traverso la sua Alfa 155, sta diventando rovente e incandescente questo duello per la prima posizione dell'ultima gara, bussata di De Simone, vuole la vittoria Fabrizio De Simone e Giovanardi chiude bene la traiettoria, si è preso un rischio tremendo come Modena con Firro tre anni fa in una finale incandescente ecco subito riproposto, guardate che grande numero di Giovanardi, puntato fuori posteriore, giù il piede e via a pendolo in stile relittico